Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Mattia e oggi siamo qui con una bustina di The Epic Animals Mega Squally Gel Edition, tutti quanti con il gel che diventano così, così molto strizzabili Sul petto della bustina, c'è scritto che costa 3,50€ magari meglio E qui c'è tutta la collezione completa Beh, perché all'interno della bustina c'è qualcosa di figo praticamente Però, però, devo dirvi che prima di aprire questa volevo farvi vedere Il primo animale che, devo farvi vedere il Il primo mega, devo farvi vedere il primo mega squallo che ho appena comprato Che ho appena già scartato Che sarebbe questo, sarebbe lo squallo tappeto maculato E questo è il gel praticamente E all'interno ci sarà anche Il magazine terra Con l'immagine della figurante dello squallo balena E con la scritta dei Epic Animals E ora vediamo un po' E adesso Guardate un po' come è fatto Bene, molto bene Adesso andrò a scartare quest'altro Vediamo un po' com'è No ragazzi, guardate qua Questo deve essere lo squallo balena Praticamente si tratta di uno squallo Innovo per l'uomo Vediamo il gel E ora vediamo un po' la sua La sua foto Ecco qua Dunque, praticamente si tratterebbe di uno squallo Uno di più grandi al mondo Che praticamente sarebbe Innovo per l'uomo E Cosa più Cosa caratteristica Che E che La caratteristica più Incredibile Che è Filtra il plankton Allargando la sua grande bocca E come ho già detto È inoffensivo per l'uomo Comunque Molto bene Io con questo concludo E ci vediamo Al prossimo video Ciao